Il colore è una caratteristica fondamentale nelle nostre fotografie. Nel video di oggi parleremo di come il colore influenza la percezione finale della nostra immagine e andrò a dimostrarvi come per essere veramente incisivi su questo aspetto sia molto ma molto utile servirsi di una strumentazione fotografica dedicata invece che del nostro smartphone. Ciao a tutti amici, benvenuti sul mio canale. Io sono Cesare e mi occupo di fotografia da tanti anni. Lo smartphone per me è arrivato solamente di recente in questo mondo. Io ho sempre lavorato, ho sempre preferito lavorare con una strumentazione fotografica dedicata, una macchina fotografica, una videocamera con tutti i suoi obiettivi e i suoi accessori. Oggi noi lavoriamo prevalentemente col telefono cellulare. Non parlo di noi professionisti ovviamente ma della maggior parte delle persone. Quindi tutti noi siamo avvezzi a catturare immagini col nostro smartphone ma lavorare con lo smartphone ci fa perdere tutta una parte che è quella del trattamento del colore perché la maggior parte dei telefoni lo fa in automatico. Questo ha due risultati. Il primo risultato è che cominciamo a dare per scontato questo processo. Non ci curiamo più del colore. Tanto il nostro smartphone lo cattura automaticamente, ci dà una resa che più o meno ci va sempre bene e quindi noi ci disinteressiamo completamente di quella parte. dimenticandoci che è un aspetto fondamentale delle nostre immagini e quindi dobbiamo metterci la massima cura. Nel corso di questo video ve lo dimostrerò con un esempio semplicissimo con cui mi sono trovato a fare i conti durante questa settimana. Prima di cominciare però invito tutti quelli che ancora non fossero iscritti a farlo subito cliccando il bottone rosso qui sotto. Vi ricordo che da statistiche mi risulta che il 60% di chi guarda i miei contenuti non è effettivamente iscritto al canale. Questo è un vero peccato perché se questi contenuti vi interessano tanto vale avere una piccola notifica quando carico un nuovo contenuto per cui il bottone è qui sotto e io vi aspetto. Benissimo ma cominciamo a parlare effettivamente di colore. Mi capita da qualche tempo di fare esperimenti in tal senso affiancando un telefono cellulare a una fotocamera. Quello di cui mi rendo immediatamente conto è che la maggior parte dei telefoni cellulari hanno una gestione automatica del bilanciamento del bianco molto buona, ci permette quasi sempre di catturare una scena gradevole. Però mi sono reso conto di una cosa, la maggior parte dei telefoni cellulari tende a riscaldare o raffreddare troppo la scena. Questo perché a discrezione del produttore e in base al display di quel produttore si è stabilito che si vogliono ottenere delle immagini più o meno sature, più o meno cariche di giallo, più o meno cariche di ciano. Questo che cosa significa? Un produttore che ha un monitor molto saturo tenderà magari a voler produrre delle fotografie meno sature per andare a compensare. Un produttore che ha un monitor un po' freddino tenderà a voler produrre delle fotografie troppo calde in maniera tale che poi in visualizzazione si vedano correttamente. In ultima analisi non dobbiamo neanche dimenticarci che i social, il web in generale, ma prevalentemente i social, sono pensati per offrire allo spettatore, all'utilizzatore finale, un'esperienza il più gradevole possibile. Per questo motivo io non troverei per niente strano se andando ad analizzare le foto ci rendessimo conto che la gran parte dei telefoni, gran parte dei filtri di Instagram, gran parte dei filtri di TikTok e di tutti i social tendono a scaldare l'immagine. Questo perché è un meccanismo automatico della psicologia umana e di come noi recepiamo ed elaboriamo i colori. Una immagine più calda tendenzialmente viene considerata più accogliente. I colori caldi sono più accoglienti per l'osservatore, noi ci troviamo più a nostro agio se stiamo osservando un giallo tenue piuttosto che se stiamo osservando un blu intenso. Poi possiamo fare mille considerazioni sul caso, il blu ci può richiamare, il mare eccetera eccetera, quindi ci può anche piacere tantissimo quel colore lì, però statisticamente sui grandi numeri un colore caldo viene considerato più accogliente. Quindi io noto che molti telefoni, molti smartphone tendono a restituire delle foto molto calde. Questo lo fanno però in automatico. Ecco che durante questa settimana io mi sono ritrovato a realizzare uno shooting di fotografia di interni di cui vi faccio vedere qualche immagine. Queste immagini che sono state scattate tutte in bracketing HDR su tre piede perché ovviamente c'è un fuori e un dentro e quindi c'erano zone di contrasto molto marcate e ho reputato assolutamente indispensabile realizzare cinque scatti in bracketing per portarmi a casa la scena completa, altrimenti non avrei potuto offrire un risultato di questo livello al mio cliente, il mio cliente mi chiama perché vuole un risultato di questo livello e quindi siamo contenti tutte e due. Che cosa succede però? Nel momento in cui io vado a scattare imposto un bilanciamento del bianco manuale che in quel momento reputo che sia il migliore, ci ho anche pensato o ho anche fatto un paio di prove. Una volta tornato a casa mi rendo conto che questo bilanciamento del bianco che io ho impostato non va tanto bene perché anche se poteva essere corretto nel momento in cui mi trovavo lì, una volta che io mi trovo a osservare le immagini a monitor mi rendo conto che queste immagini sono decisamente troppo fredde. Un'immagine troppo fredda non va bene in questo caso perché anche se è corretta, anche se io magari ho campionato il punto di bianco e quindi è giusto, se io vado a beccare il bianco la stanza mi sembra naturalmente un pochettino più fredda, ma per l'obiettivo che ci siamo prefissati, ovvero mettere in affitto questo immobile, non va bene e questo per un motivo semplicissimo. Nel momento in cui io sto valutando un immobile, anche semplicemente un albergo, un affitto, qualsiasi cosa, sono attratto da un ambiente caldo, sono attratto da un ambiente che vada a darmi un senso di accoglienza e per fare questo sono molto meglio i colori caldi dei colori freddi. Fateci caso, basta guardare le scene di qualche film come può essere per esempio Harry Potter, nei momenti in cui Harry Potter e i suoi amici sono nella stanza di Grifondoro, col caminetto acceso, la luce è calda, quella è una sensazione di accoglienza. In tutte le scene in cui i nostri eroi si trovano a fronteggiare i cattivi, i mangiamorte o chi per essi, la luce è quasi sempre fredda, quindi andiamo verso l'azzurro o verso il verde che non sono altrettanto gradevoli e non sono altrettanto accoglienti. Per questo motivo quando io vado a utilizzare delle immagini per veicolare un contenuto devo stare molto attento al colore che sto utilizzando, il bilanciamento del bianco e la tinta sono fondamentali per ottenere questo risultato, quindi è vero che io vado a impostare un parametro in macchina ma poi vado anche a sistemarmelo in post produzione in maniera tale da avere il risultato in questo caso non più vicino possibile alla realtà ma più vicino possibile a quello che deve essere l'obiettivo di queste immagini. Tutto questo per dirvi cosa? Tutto questo per dirvi attenzione perché quando noi lavoriamo con strumenti fotografici come possono essere lo smartphone o una fotocamera utilizzata in automatico stiamo rinunciando a questo ragionamento e come fotografi, come esperti se non offriamo questo ragionamento offriamo veramente poco a un utente medio che se le poteva fare da solo col telefono. Quindi questo secondo me è uno step fondamentale per continuare a offrire un prodotto di buon livello in questo settore e per prodotto di buon livello intendo io che ci lavoro ma anche uno di voi a casa che vuole metterle sui social, che vuole metterle su Instagram, non stiamo dando il massimo se non ci prendiamo cura del colore. Quindi è importante fare questo passaggio, è importante arrivare alla consapevolezza che per ottenere un'immagine giusta per il nostro scopo dobbiamo prenderci cura anche del colore, dobbiamo prenderci cura di quell'aspetto in maniera tale che l'immagine sì comunichi lo spazio, il prodotto, quello che deve comunicare ma con il colore giusto, con il trattamento giusto. Questo difficilmente riusciamo a farlo senza un dispositivo fotografico dedicato perché sì è vero possiamo scattare in DNG con il cellulare poi modificare le foto in Lightroom però è un procedimento un po' controverso secondo me perché stiamo scattando con un mezzo fotografico non per sua natura particolarmente performante e poi stiamo trattando il file come se venisse da una macchina fotografica performante. Il risultato a me lascia sempre un po' lì così, secondo me lo smartphone è fatto per essere usato in automatico, rende meglio se lo usiamo in automatico piuttosto che se la lavoriamo. Una foto da smartphone lavorata secondo me il risultato finale 9 su 10 è peggio rispetto alla stessa foto fatta dallo smartphone in automatico perché lo smartphone in automatico lavora meglio. Mentre se noi vogliamo essere pervasivi in quello che stiamo facendo, mettere il nostro stile, mettere la nostra mano proprio, la nostra firma sul lavoro che stiamo facendo e per lavoro ripeto intendo sia le mie foto che magari do a un cliente sia delle foto che finiscono solamente sul nostro Instagram è importante anche lì avere uno stile. Guardatevi tutti i fotografi non solo italiani ma anche internazionali di maggior successo comunque hanno uno stile, hanno un qualcosa che li caratterizza e difficilmente questo qualcosa gli è venuto per caso e soprattutto lo sanno replicare di volta in volta. Quindi c'è dietro un lavoro, un procedimento, un ragionamento che li mette in grado di volta in volta di compiere delle scelte su immagini diverse per restituirci un mood che è sempre lo stesso e sempre integrato nel loro stile anche se le fotografie provengono da momenti molto diversi della loro vita che poi le ritroviamo tutte insieme nel loro feed. Molto bene amici con questo io vi lascio come sempre spazio nei commenti dove vi ricordo di lasciarmi domande o considerazioni varie ed eventuali di cui andremo a parlare poi negli shorts verticali che io pubblico in risposta per cui vi ricordo di iscrivervi così non andate a perdervi questi contenuti. Fatemi sapere se avete domande in particolare sul trattamento che abbiamo visto oggi e se volete approfondimenti a riguardo. Io vi ringrazio come sempre di aver passato un po' del vostro tempo con me e vi do appuntamento al prossimo video. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.